Dopo lo sfogo repentino del suo primo romanzo, Stefano De Tallevi torna con un'attenta e sapiente regia di costruzione della sua nuova fatica letteraria. Come un serpente che si morde la coda, ci stupisce con La pelle sul cuscino, il resto chissà dove, un romanzo intrigante, schietto, diretto, che chiede di essere letto fino alla fine. Pippo è un personaggio sui generis, sembra derivato dalla preistoria addirittura. È silente spettatore interessato e testimone passivo dell'intera vicenda. Alice è una bimba che diventa donna attraverso bislacche e molteplici esperienze. Tutti i personaggi, nel loro interagire, diventano le tessere di uno struggente e originale mosaico sull'amore. Perché è l'amor che muove il sole e le altre stelle. La pelle sul cuscino, il resto chissà dove. Il nuovo romanzo di Stefano De Tallevi, Armando Editore, in tutte le migliori librerie e anche online.